Sperta, ora siamo solo io e te 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 150 persone non stai scherzando Allora. Alla rito Alla rito Si mette la rito nell'altra Allora lo saperi fare No, magari una panna Saperi fare un rito Alla rito Dicevi che non so fare rito Non so fare rito Saperi fare molto Invece Buon appetito. Allora? Mi hai oliato la faccia. Vedi? Vedi questo qui? Guarda, questo. Vedi questo? Questo è rimasto. Aspetta, aspetta. Cos'è? Uno si è sparpagliato. Ah, quindi malocchio? Due no. Ah. Due, ci sono due occhi che ti affermano. Due occhi? Due occhi, eccoli. Eccolo, uno e due. Eh. Allora? E il terzo, sì. Gli hai oliato la faccia. Quindi malocchio? Vedi questo qui? Ah, un po' di malocchio? Me l'han buttato. Due occhi che ti guardano. Mamma mia che inquietante. Inquietante. Però erano tre le cose. Vedi, uno, sei, e due sono rimaste. Il malocchio. L'umalocchio. Ma ci voleva la preghiera che non la so. Comunque. C'ho il malocchio, ragazzi. Probabilmente per me è la fine. Poco. Quale si chiama il nome di storito? Pocchissimo. Il nome di storito? Malocchio, si chiama. Rito anti-malocchio, dico. Anti-malocchio, sì. Ah, cancello laggiù? È più facile, eh. Più facile la salita. Guardi, a pochi metri. Pensi solo che dal prossimo prenderà queste sbarre e sarà a posto. Perfetto. Let's go. Ce la possiamo fare. Prenda altre sbarre. Piano piano. Guardi quante sbarre. Dai, qui, easy. Cioè, prima abbiamo fatto il tombino che era molto più difficile. Cioè, questo in confronto non è niente. Zero. Ce la fa... Grazie a tutti.